musica 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 che mi sono andata tu vieni a casa ok 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 I'm back to another vlog I'm making a vlog in a big day And now I'm very late Why am I so late? Because I left a car I can't stand outside The car can't stand outside The problem is this I'm standing inside the car I was standing inside the car Because you already know The house is very tight And there are leather seats The new seats I didn't have an idea That day I had such a light That... But... But now... I'm going to go And now I'm going to go There is a car Man... Who are you saying? I'm going to go to my office After your work The car will be done And the car will be done The car will be done And... And... I will do that I will do it Inshallah and then we're going to go to the RABB and then we're going to check it out Assolutamente si trattate si trattate non si trattate ok ragazzi ora il tempo è arrivato ora è 1 ore 1.30 Nammaz 8 Sì Certo Bocchia E ciò Sì 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 Ok Sì E ci sono stati fuori e ci sono stati e ci sono stati e ci sono stati grazie mi chiede la gara è stata un deserto e anche un paese è un pozzo è un pozzo è un pozzo è un pozzo Il nostro corso il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info questo è il mio amore questo è il mio amore non ho capito che ho fatto non ho capito 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 ok ragazzi 5 giorni perché non ho capito se volerò 6 minuti prendere la gara mi d'accordo che la gara è pronto se non ciò non ciò se non ciò se non ciò non ciò ora allahafiz ok ok ora andiamo il baique non mi capito che io sono andato ma non mi capito il baique e il baique non si può andare a fare un baique e il baique non si può essere ovo ora il baique ora il baique ora e una cosa il resto è un po' che parezza si sembrava questo è un po' un po' un po' un po' un po' il paese si faccio un po' ha un po' un po' un po' il posto un posto un posto un po' per fare i metodi Poi, poter i metodi i metodi A qui la cattura per fare i metodi la cattura ci sono reali la cattura Ah, la cattura è proprio il momento che siamo abbiamo non ho I'm going to pick up the bussor, otherwise the car will take a little bit of my car. Let's go. What the car is doing? What are you doing? Tesla and what are you doing? Oh, my God. This is a Zalala. He will come again and sit again. Oh, my God. Zalala. Again. We are going to work again. Nice. You'll get the car in the morning. Oh, my God. I'm going to work again. I'm going to work again. And what do I do? Guys. I'm going to work again. It's four times. After working again, the car will get the car in the morning. Other things like it. Now, the car will get the car in the morning. I'll end the block here. I'll end the block here. All right. Until then, keep the car in the morning. Until then, keep the car in the morning. Until then, keep the car in the morning. And subscribe to the channel. Take care. Bye-bye. 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 All hailihis. Grazie.